Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In effetti cerchiamo di dare delle risposte non solo ai pazienti lamettini ma giungono al nostro reparto anche pazienti fuori lamezia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un organico che sostanzialmente si può dire quasi completo. Questo ci permette di dare delle risposte adeguate ai pazienti. Certo potremmo fare molto di più però è il nostro impegno è cercare sempre di perforzionarci, di migliorarci. Però anche il contesto non ci aiuta. Le problematiche legate al Covid ci hanno un pochettino rallentato. E quindi questo ci ha penalizzato negli ultimi due anni ma penso abbia penalizzato tutte le unità operative di tutti gli ospedali di Calabria e d'Italia. Tutto il campo della specialità urologica, quindi dalla chirurgia open all'endurologia. In particolare la mezzia si distingue in questo ambito. Cioè noi riusciamo a trattare patologie urologiche attraverso tecniche di endurologia che prevedono sostanzialmente l'introduzione all'interno del nostro organismo delle piccole telecamere quindi che ci permettono di essere poco invasivi. L'unità operativa che è anche un ambulatorio? L'unità operativa consiste di un ambulatorio dedicato non solo per le visite urologiche generiche ma abbiamo un ambulatorio dedicato all'uridinamica di cui se ne occupa la dottoressa Zappavigna ma che in questo momento sta facendo urodinamica. Abbiamo un ambulatorio dove vengono seguite delle biopsie prostatiche e abbiamo un ambulatorio settimanale in cui noi trattiamo i pazienti con calcoli renali con l'itotresia extracorporea. Quindi siamo piuttosto completi da questo punto di vista. Riusciamo ad offrire un ventaglio di opzioni... Completi e all'avanguardia. Completi e all'avanguardia anche se dovrebbero essere gli altri a dirlo però senza falsa modessia penso di poter dire che abbiamo degli standard che sono adeguati agli standard nazionali sostanzialmente. Questo è quello che conta perché possiamo dire al cittadino utente che alla Mezzia ti puoi curare come a Milano, come a Venezia, a Padova. Assolutamente sì. Cito questi luoghi perché sono tra le eccellenze della sanità nazionale. Entriamo nel vivo di questa nostra chiacchierata e parliamo di laparoscopia. Voi avete fatto un corso su questo ma diciamo prima che cos'è la laparoscopia. La laparoscopia nasce diciamo in ambito orologico da diversi anni ed è una tecnica che si sostituisce sostanzialmente alla chirurgia a cielo aperto nel trattare le patologie orologiche. La chirurgia a cielo aperto è la chirurgia che prevede dei tagli sostanzialmente. In laparoscopia al contrario non si fanno dei tagli ma si creano dei piccoli fori a livello dell'addome attraverso questi fori si introduce una telecamera che ci permette di visualizzare l'interno dell'addome si creano 4.5 fori e attraverso questi fori oltre alla telecamera si introducono delle pinze, delle forbici attraverso questi strumenti noi riusciamo a sostanzialmente mimare l'atto chirurgico che fino a qualche anno fa noi portavamo a compimento attraverso una tecnica di chirurgia a cielo aperto sostanzialmente. Questo comporta dei grossi vantaggi perché ognuno di questi fori ha delle dimensioni medie diciamo di 1 cm o 12 mm quindi capisce bene che non si creano quelle cicatrici chirurgiche che possono essere anestetiche con un recupero funzionale del paziente chiaramente che è molto più rapido il paziente può ritornare alle sue effette, alle sue attività, al suo lavoro in dei tempi molto più rapidi rispetto a quanto si fa in chirurgia open con minori perdite ematiche è chiaro che è un tipo di chirurgia che è ottimale sostanzialmente e un urologo moderno deve poterla, un urologo che si dica moderna, deve poterla praticare rutinariamente. Un intervento che dà al paziente una qualità di vita diversa. Assolutamente, come dicevamo i tempi di recupero sono totalmente diversi se noi pensiamo all'enefrectomia cioè all'asportazione del rene che in tempi passati si faceva con il classico taglio i pazienti restavano ricoverati 15 giorni perché erano ferite dolorose il recupero era molto più lento attualmente abbiamo nel reparto un paziente operato in laparoscopia che sostanzialmente in quarta giornata potrebbe andare a casa prima andavano a casa in decima giornata quindi capisce che chiaramente è totalmente una svolta nell'approccio terapeutico al paziente. Facciamo un passaggio con la dottoressa Azzarito proprio per parlare delle patologie che possono essere operate con la laparoscopia. Allora, possono essere trattate ormai tutte le patologie che noi possiamo trattare tipo le patologie renali di tipo malformativo oppure neoplastico per la prostata ormai è diventato quasi un obbligo garantire al paziente almeno un intervento in laparoscopia almeno per noi che non siamo dotati di robotica e ormai anche la vescica che sempre più centri si sono adeguati al trattamento anche della neoplasia vescicale per via laparoscopica. I vantaggi, come diceva poco fa il collega naturalmente dal punto di vista dell'immediata ripresa del paziente minor sanguinamento e soprattutto anche, non da ultimo, anche l'assenza di cicatrici elevatamente antiestetiche. Detto questo, quando esponete il problema al paziente, qual è la reazione? Sicuramente il paziente che ha di fronte la possibilità di avere un intervento minimamente invasivo con immediata ripresa è sicuramente più invogliato rispetto al passato quando veniva proposto un intervento demolitivo allo stesso modo demolitivo però soprattutto con più sacrifici da parte sua e anche da parte nostra nella gestione del paziente quindi sicuramente è molto più accettato. Dottoressa Suriano, lei è l'altro direttore scientifico di questo corso. Com'è nata l'idea di proporre la MES a questa iniziativa? Beh, in realtà mi è venuta in mente durante la mia partecipazione ad un corso fuori, al nord sempre un corso di laparoscopia e di fatto, tornando a casa, ho proposto ai miei colleghi di organizzare qui un corso di laparoscopia in quanto di fatto al nord non fanno nulla di diverso rispetto a quello che facciamo qui quindi ho detto, beh, mettiamoci in gioco e quindi è nata questa idea di coinvolgere gli altri colleghi calabresi perché noi obiettivamente abbiamo delle eccellenze non bisogna andare fuori per trovare delle eccellenze necessariamente le abbiamo anche in Calabria e quindi abbiamo deciso di invitare i colleghi che ha citato poco anzi il collega, il dottore Umbaga quindi il dottore Di Dio che è responsabile del Dipartimento di Urologia di Cosenza poi abbiamo il dottore Sgroco che ha nominato responsabile del reparto di urologia dei riuniti dell'ospedale di Reggio e il dottore Alba responsabile dell'urologia Rocca di Netto e poi abbiamo invitato il dottore Celia che è un urologo di grande fama calabrese di origine che lavora al nord a Bassano del Grappa che ci ha un po' fatto da tutor in quanto sicuramente è quello con più esperienza laparoscopica e quindi ci siamo ritrovati tutti i calabresi a lavorare alla Mezzia a fare questo corso in grande armonia e con grande entusiasmo quindi la risposta è stata positiva? assolutamente sì infatti ci hanno chiesto di organizzare altri corsi proprio perché di fatto la Mezzia risulta essere un punto nevralgico in Calabria sia anche grazie alla presenza dell'aeroporto e della stazione abbiamo diversi posti letto forse il reparto più grande in Calabria è il più rappresentato, il nostro per cui organizzeremo senz'altro degli altri corsi invitando i colleghi anche più numerosi perché questa volta abbiamo cercato di fare un gruppo ristretto per garantire a tutti l'accesso in sala operatoria le prossime volte sicuramente faremo qualcosa di più in grande pertanto oltre al corso che è stato realizzato nella sala Ferrante vi siete spostati in sala operatoria con la pratica assolutamente sì è stata la prima mezza giornata di teoria di fatto in cui ci siamo confrontati su alcune tematiche e gli altri due giorni invece sono stati interamente in sala operatoria quindi ci siamo alternati al tavolo operatorio su diversi interventi per cui forse l'entusiasmo è nato proprio da quello perché tutti si sono sentiti coinvolti Dottore Umbaca vorrei chiudere con lei perché sicuramente tante persone che ci stanno seguendo da più parti del Calabria si chiederanno ma è facile accedere al reparto di urologia di Lamezza perché è uno dei problemi più grandi che ha la sanità in Calabria ma forse ovunque sono le liste d'attesa noi cerchiamo di fare in modo che diventi sempre più facile stiamo cercando di implementare l'attività ambulatoriale però è chiaro che non è semplice perché per fare più attività ambulatoriale c'è necessità di avere il personale il personale è sempre il problema più grande il personale è il problema credo dappertutto però nonostante questo noi stiamo cercando di garantire comunque ai pazienti un'accoglienza che sia quanto più rapida è soddisfacente compatibilmente con i problemi che credo siano presenti in tutta Italia non dico tutta la Calabria ma in tutta Italia le liste d'attesa e quant'altro insomma grazie a tutti Grazie a tutti.